Abbiamo il grande onore di avere con noi Alex Zanardi, sarà Luca Corsolini a intervistare simpaticamente Alex, un inguaribile ottimista. Vi preghiamo dunque di accomodarvi, preghiamo gli amici fotocene operatori di fare un pochino circolo in modo che il pubblico che ringraziamo, così numeroso nello spazio latte e miele, possa assistere. Ringraziamo, abbiamo una presenza prestigiosa del mondo sportivo italiano, la presenza del Presidente della Federazione Italiana Cirulistica Renato Di Rocco che ringraziamo, significativa proprio la sua presenza per sottolineare questa splendida medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Alex Zanardi su strada e in crono. Dunque la presenza significativa della massima autorità della Federazione Cirulistica Italiana Renato Di Rocco. Io do il microfono subito a Luca Corsolini. Grazie a tutti per essere qui oggi pomeriggio, grazie in particolare alla organizzazione capitonata da Castrucci della Maratona di Roma. Grazie a tutti per essere qui.